Eccolo il numero di ingresso e pregore della battuglia acrobatica nazionale qui a Iesu. Comincia così il programma acrobatico delle frecce tricolori, 1500 metri d'altezza. Ed eccole le frecce tricolori esattamente di fronte a noi, al centro della linea di manifestazione, volo verticale, questa è la prima separazione delle frecce tricolori. Ecco la prima apertura, preparate le macchine fotografiche, eccole, eccole, eccole. Otto Kuban, il paese sarà la volta del primo riconglimento del programma acrobatico delle frecce tricolori. Il principale si allontana a sinistra, noi guardiamo a destra, volo rovescio, fuo bianco per il solista, raggiunge così il centro della linea di manifestazione. Torno e ancora volo rovescio per Tori numero 10. Tori numero 10 a sinistra, anche la formazione principale a sinistra. Torno e ancora volo rovescio per Tori numero 10. La lupestazione del precedente è il 313esimo gruppo ad estremoto agrobatico. Ricontruggimento della formazione principale, noi guardiamo a sinistra, da lì arriva il solista. Comincia la sua serie di tono sull'asse. Con te ma di loro, ma esi che non ho mai il reso vissuto con te, adesso si vissuto con te. Questo è il crocio del cuore Il solista è sottoposto a 7G Il sottoposto quindi ha una forza pari Formazione principale 4 e 5 a posto di In questo momento ogni pilota ha l'assoluta certezza Perché chi vola accanto a lui in formazione Mancherà correttamente la posizione Ed è proprio una fiducia della Postati verso sinistra Eccolo arrivare I più attenti saranno riusciti anche ad intravedere il suo casco bianco Il solista si allontana Continua l'alternato Andiamo su Questi gli ordini partiti dal capo formazione I suoi gregari non se lo lasciano ripetere due volte Il nostro tricolore raggiunge i 1500 metri d'andesa E arriva anche il solista dal basso e in volo verticale Si inserisce esattamente al centro della separazione dell'Arizona E con questa apertura comincia il grande Grandissimo abbraccio Tra pochissimo si chiuderà in un incrocio E quindi 3, 2, 1 Incrocio e Ed era l'incrocio dell'Arizona Ecco ora nella patoglia acrobatica nazionale ma da sinistra torna Il solista ci presenta una delle sue manovre più suggestive Dove ho verticato Pochia rotazione sui nasi Corbio E poi Questo è uno dei pochissimi jet al mondo in grado di eseguire questa manovra Ve la presentiamo Signore e signori Questo è l'onflop del capitano Filippo Barbero E' un pochissimi jet al mondo in grado di eseguire questa manovra E' un pochissimi jet al mondo in grado di eseguire questa manovra E' un cambio di configurazione Spettacolare di tutto il programma acrobatico Da destra arriva anche il solista E' arrivato il momento di presentarvi questa apertura Questa è l'apertura della borra Assieme qual è la distanza minima tra un bilivolo e l'altro In formazione Vi suggeriamo inoltre di scattare una foto al ventre tricolore dei nostri aeroplani E dopo aver scoperto insieme questo segreto della battuglia acrobatica nazionale Il solista ha già cominciato ad eseguire la manovra E' un pochissimi jet al mondo in grado di eseguire la manovra Signore e signori Questo è il volo toglie di Poi numero 10 E' un pochissimi jet al mondo in grado di eseguire la manovra E' un pochissimi jet al mondo in grado di eseguire la manovra E' un pochissimi jet al mondo in grado di eseguire la manovra